Bene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube appuntamento consueto insieme con l'analisi estrazione di martedì 27 dicembre allora notiamo qualcosa in questo quadro estrazionale e notiamo ancora la presenza del 54 in terza posizione sulla ruota di Caleri regalato a tutti voi da ambo sotto controllo che giocate questa cari amici questo 54 ce lo siamo vinti in due estrazioni consecutive guardate quello che dico sempre tra le ruote di Baricagliari si ripetono in continuazione gli stessi numeri ecco perché quando faccio continuare le giocate c'è una motivazione perché sono due ruote che vanno a portare gli stessi numeri guardate un po addirittura sulla ruota di Caleri sono usciti tre numeri 54 24 8 l'estrazione dopo 54 24 8 addirittura sono usciti tre numeri uguali c'è lo stesso terno in due estrazioni consecutive quindi questo vi fa capire come queste due ruote continuano a portare lo stesso andamento che io già vi ho fatto conoscere mesi e mesi fa e sono due ruote sulle quali c'è un fenomeno molto forte di ripetizione numerica quindi ci siamo andati a vincere ancora una volta questo bellissimo 54 da ambo sotto controllo questo l'ho regalato Baricagliari terza e quinta posizione è una giocata molto forte che io vi consiglio di prendere ogni mese peccato per l'ambo secco ma comunque ci siamo portati a casa diverse volte questo 54 vinto ed è un estratto di un estratto determinato che io vi regalo ogni mese e lo andiamo a stravincere alla grande e notate come i numeri continuano a ripetersi su queste due ruote come i numeri si ripetono alla grande abbiamo una bellissima somma 90 tra le ruote di Baricagliari 55 35 in cadenza state molto attenti un 90 che mi aspettavo già questa sera ma è una settimana calda entro sabato 31 potrebbe arrivare è un 90 che deve uscire su diverse ruote cagliari è una delle favorite palermo è una delle favorite genova è una delle favorite milano napoli possono portare la ripetizione nazionale forte torino forte venezia forte abbiamo il finimondo è strano che il 90 non si sia presentato ancora su nessuna ruota giovedì 29 ne potremo vedere delle belle perché deve arrivare su diverse ruote sapete benissimo che abbiamo dal mio metodo cadenza a zero proprio milano napoli questo doppio 5 in prima posizione lo chiama alla grande il 54 milano di figura 9 notiamo e il 2 su milano grande spia nonché distanza 2 52 54 a milano che lo chiama napoli abbiamo visto il 5 e quindi milano napoli grande grande situazione soprattutto milano dove abbiamo il 5 il 2 il 54 venezia gemello in terza posizione ok 85 5 venezia milano somma 90 in diagonale l'uno a venezia gemello in terza posizione dice sì al 90 milano venezia guardate in diagonale milano venezia abbiamo 85 5 90 88 e 2 90 quindi ci sono veramente una miriade di segnali in tutti questi quadri estrazionali e il 90 non può sfuggire l'uno sulla ruota nazionale tra l'altro vinto ricordate a barco se vi ho detto ambo consecutivo che ho regalato a tutti voi per natale portava ambate d'ambo secco 1 e 90 l'uno e 90 ce lo siamo vinti c'è il metodo non l'avevo ancora presentato ma aveva già vinto a colpo sulla ruota di bari ambate ed ambo secco cosa è successo detto chi vuole può continuare benissimo l'uno vinto a bari il 24 dicembre l'uno vinto a nazionale il 27 dicembre un metodo regalato che continua a pagare due soli numeri per ambate d'ambo secco vi ho regalato un gioiello per natale un gioiello mi raccomando a sfruttarlo ogni mese un altro metodo che avevo regalato sulla ruota di napoli portava molti credo che l'abbiano continuato la terzina 12 65 90 ed ha pagato sul napoli 12 65 anche se era oltre i colpi ma so che alcuni l'hanno continuata quindi notiamo anche a roma gemello in terza quindi firenze roma firenze somma 90 85 5 c'è veramente è imbarazzante commentare questi quadri estrazionali perché veramente uno può dire ma allora il 90 deve uscire su tutte le ruote ma purtroppo è così firenze somma 90 accompagnato dalla figura 9 27 roma gemello in terza lo chiama 39 spia a roma lo chiama c'è il fini mondo c'è il fini mondo il 9 a genova lo chiama la grande trittico di numeretti geno milano napoli 95 5 abbiamo visto la somma 90 baricaglia in verticale il vertibile a bari 12 21 anche questo un altro bel segnale vediamo ancora qualcos'altro milano napoli l'abbiamo viste e abbiamo la cadenza 0 il mio 90 segreto rimane confermato perché sono ancora alla fine di questo mese tre ruote di fuoco cagliari genova palermo attenzione abbiamo vinto già 4 90 questo mese potrebbe arrivare il quinto attenzione perché sono tre ruote spettacolari palermo porta l'89 che chiama il 90 attenzione con la distanza 1 31 32 c'è l'imbarazzo della scelta veramente un altro quale estrazionale che ci porta ancora grandi grandi segnali per questo 90 che potrebbe pagare sia giovedì sia sabato potrebbe chiudere l'anno con un grande botto con un grande botto quindi mi raccomando chi ha le mie giocate in mano a portarle avanti sia il 90 segreto sia la cadenza 0 milano napoli perché questo doppio 5 milano napoli è veramente interessante quindi attenzione assoluta nazionale anche forte il 5 anche sul nazionale accompagnato dalla figura 9 l'uno stesso in diagonale con venezia genova la figura 9 la porta in prima posizione quindi è molto importante questa posizione per il 90 vediamo se c'è ancora qualcos'altro da poter segnalare vediamo un po' i gemelli in terza le abbiamo visti quindi sia venezia sia roma quindi che chiamano milano venezia firenze roma questo 89 a palermo ne l'abbiamo già visto anche diverse estrazioni fa cagliari palermo sono bollenti cagliari palermo sono spettacolari l'84 guardate quanti segnali c'è la spia 84 c'è il 39 a cagliari se andiamo avanti nell'estrazione troviamo il macello 84 spia ancora sulla ruota di cagliari poi cosa abbiamo vediamo un po' c'era se andiamo ancora indietro il gemello in terza posizione a palermo poi c'era ancora gemello in terza posizione a palermo l'89 ancora indietro a palermo un 89 che si è rappresentato mi sembra ancora indietro 39 spia quindi veramente cagliari palermo sono molto molto potenti molto molto potenti giovedì deve cadere il 90 giovedì o sabato deve cadere il 90 altrimenti c'è qualcosa di veramente strano perché manca se non sbaglio già da quattro turni mi sembra che l'ultima volta che è uscito se lo sguardo non mi tradisce è stato a milano il 17 di dicembre e che abbiamo vinto con il mio metodo cadenza 0 90 37 mi sembra che questa sia stata l'ultima estrazione quindi 1 2 3 e 4 sono quattro turni che non si può andare al quattro turno ma il 31 noi alla fine dell'anno vedremo il 90 sortire lo potremo vedere anche su più di una ruota perché sono quattro estrazionali che parlano molto chiaro quindi mi raccomando continuiamo chiaramente tutte le previsioni che abbiamo in corso chi gioca con me sa quali sono le giocate sono contento per ambo sotto controllo perché questo 54 ce lo siamo stravinti alla grande prendere due estratti determinati in due estrazioni consecutive è segno che sono previsioni di grande affidabilità alla vigilia 24 54 in quinta posizione a cagliari e questa sera in terza posizione giocando un solo numero su due ruote in due posizioni determinate un 54 che non ci siamo vinti anche indietro nel mese di dicembre il 20 di dicembre 54 in terza guardate che roba una roba da pazzi 54 di nuovo e 54 di nuovo 3 54 vinti determinati 3 estratti ma se andiamo ancora indietro questo vi fa capire la potenza dei miei studi perché vado ad individuare i numeri migliori in assoluto se andiamo ancora indietro ci dovrebbe essere il 54 vinto a bari il 6 di dicembre guardate ancora a cagliari questo mese abbiamo sbancato ambo sotto controllo cioè vi rendete conto di quante volte abbiamo vinto il 54 in estratto e terminato a cagliari 3 dicembre 1 questo di bari non era in posizione quindi andiamo poi l'abbiamo vinto vediamo un po' 1 2 3 il 24 dicembre e 4 4 estratti determinati da ambo sotto controllo che giocata cari amici regalato regalato terza e quinta posizione 4 estratti determinati il 90 segreto 4 90 vinti in estratto regalato anche quello quante ambate quanti estratti determinati vi faccio vincere ogni mese con le mie proposte soltanto prendendo visione dei miei video questo mese trambo sotto controllo 90 segreto parliamo di otto ambate e quattro estratti determinati tabella numeretti terno a tutte ve lo ricordate benissimo ve l'ho fatto vedere terno a tutte tre proposte 90 segreto e ambo sotto controllo regalati gli estratti vinti alla grande tabella numeretti altra grande vincita ambata perpetua abbiamo vinto anche il 18 a torino c'è più di questo veramente incredibile incredibile mi raccomando a seguire ogni mese le mie proposte perché al gioco dell'otto si vince con la costanza e con la fiducia nelle previsioni ebbene cari amici mi sembra che abbiamo detto tutto ci diamo appuntamento all'estrazione di giovedì 29 dicembre siamo agli sgoccioli per questo 2022 che ci ha portato veramente tante soddisfazioni vincenti in quest'anno quindi chi ha seguito le mie proposte si è portato a casa tante vincite e sono tutte documentate sul mio canale vediamo se c'è ancora qualcos'altro da dire mi sembra di no quindi c'è un appuntamento all'estrazione di giovedì per adesso saluto a tutti mister buon calotto